Kylie Jenner Kylie Jenner, body trasparente e corpetto slacciato rivelano il seno . Capello biondo, pelle calda e sguardo perso nella distanza. Kylie Jenner incendia il suo feed Instagram con l'ennesima foto infuocata dove mette in mostra il suo corpo potenziato dalla cura costante, dall'esercizio fisico intenso e da qualche colpetto di bisturi. Kylie Jenner, sotto il body, niente. Il body bianco di Kylie Jenner non è troppo aderente, ma mette in mostra le curve morbidissime della socialite con maestria senza eguali. Il corpetto slacciato le stringe il fianco e le dona una vita sottile, proprio come quella della celebre bambola che tanta adora. . Il capello biondo, poi, è l'ennesima omaggio a Barbie, rievocata anche nella posizione un po' plastica delle braccia e del collo. In questo scatto nella penombra, Kylie Jenner è, come sempre, uno schianto. . 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